Il monastero dell'Ortus Conclusus a Betlemme fu costruito nel 1901 sulla collina di fronte al villaggio di Artas. Fu fortemente voluto da Monsignor Mariano Soler all'epoca arcivescovo di Montevideo, Uruguay. Il santuario è stato affidato alle suore figlie di Maria Santissima dell'Orto. In questo santuario, ricco di bellezza e tranquillità, la forza della fede si fonde con la profondità del messaggio. Ortus significa giardino, che è un sinonimo e un titolo della Vergine. L'espressione Ortus Conclusus si trova nel libro del Cantico dei Cantici, che Salomone ha scritto in un luogo non lontano da qui. Il villaggio si chiama Urtus, che significa paradiso. La Vergine Maria qui ha il titolo di Nostra Signora dell'Ortus Conclusus. Il 10 settembre si celebra la festa della Madonna dell'Ortus Conclusus. La statua e l'icona della Madonna percorrono i vialetti del monastero in una processione piena di fede, speranza e pace. La messa solenne è stata presieduta dal vescovo William Shomali, vicario patriarcale di Gerusalemme dei Latini, che ha voluto pregare in special modo per i feriti e le vittime del terremoto che ha colpito il Marocco. Oggi sono venuta da Ramallah per partecipare alla festa della Madonna dell'Ortus Conclusus. Avevo sentito parlare del monastero e avevo visto alcune immagini. Ho voluto visitarlo e sono rimasta molto colpita dalla bellezza del luogo, dalla sua spiritualità e da quante persone sono venute oggi per onorare la Madonna. È una sensazione indescrivibile essere qui tra la mia famiglia, i miei cari, i miei concittadini. È la prima volta che visito questo luogo e partecipare alla celebrazione è stata una benedizione. Il monastero dell'Ortus Conclusus ha anche una grande importanza sociale per la comunità locale. Qui si trovano infatti un ambulatorio medico e un asilo nido, che forniscono assistenza sanitaria e le prime opportunità educative ai bambini. In passato il monastero ha ospitato anche un orfanotrofio. Metto tutti coloro che hanno partecipato a questa festa sotto la protezione della Vergine, signora dell'Ortus Conclusus. Chiunque si rifugia nella Vergine riceverà la sua materna protezione. Buona festa a tutti! Ho sempre sentito il mio parroco parlare della processione, della partecipazione degli scout e oggi abbiamo vissuto quest'atmosfera fantastica.